Sindaco Roberto Verrocchio, adesso possiamo dire che ci sono anche i crisi dell'ufficialità, questa tassa di soggiorno di cui si parla tanto, non solo a Pineto, anche in altri comuni limitrofi, almeno a Pineto slitta nel 2019. Sì, di poche ore insomma il Consiglio Comunale che ha approvato la delibera di slittamento nel 2019, perché in realtà era previsto anche nel 2018. La scelta è stata fatta in seguito a un lungo confronto tra l'amministrazione, tra me nello specifico, cioè tra il Sindaco e gli operatori del settore sul tema dell'introduzione dell'imposta di soggiorno. Devo dire che c'è stato un confronto leale, costruttivo, quindi anche un ringraziamento va agli operatori del settore. Ovviamente all'interno di un percorso richiesto agli operatori e condiviso, quindi che prevede un tavolo tecnico, un tavolo tecnico che da subito si metterà allo studio, diciamo, dei dati turistici al fine di ponderare bene le tariffe, perché le tariffe possono essere differenziate di mese in mese, di tipologia, dell'ospite piuttosto che gruppi, eccetera, all'età. Lo stesso tavolo tecnico che poi, nell'ambito, diciamo, di questa intesa, composta da rappresentanti, dagli operatori, che poi avranno a che fare con l'imposta, quindi albergatori, campeggiatori, bagnatore, B&B, affitta case, eccetera, sarà quel tavolo che poi si confronterà, diciamo, con l'amministrazione comunale, anche per programmare poi i proventi. E' come vero che ci sarà anche una guest card, una carta per il visitatore, che può accedere anche ad una scontistica particolare? Sì, questa è una proposta che è arrivata proprio in ambito di questi incontri, perché l'idea è di consegnare una card, il titolo scelto appunto è Pineto Guest Card, a tutti quegli ospiti che saranno, diciamo, che sceglieranno la nostra città e che staranno all'interno di strutture regolarmente classificate, ovviamente. Perché specifico regolarmente classificate? Perché nell'ambito dell'intesa, perché la legge già lo provvede, ovviamente verranno mappate anche le case private, perché sono centinaia di case che magari sono assegnate alle agenzie e poi, legittimamente, molti privati affittano per l'estate. Però è giusto che si sia tutti all'interno di un circuito e quindi quella card consentirà al turista di beneficiare di scontistiche, piuttosto che di servizio, visite, musei, eccetera. Ovviamente i contenuti di questa card adesso verranno studiati nel corso dei prossimi mesi, però insomma è uno degli obiettivi, anche per dare un segno di quel qualcosa in più che la nostra città vorrà offrire con l'introduzione dell'imposta di soggiorno.